sono buone idee perché è una delle poche persone nell'ambiente diciamo governativo di buon senso medico, chirurgo peraltro e forse questo lo aiuta assolutamente, una grande persona che se non ci fosse stato lui secondo me la barra sarebbe stata molto meno stabile di come è stato per cui facciamogli un applauso, meno male che c'era Sileri, che c'è Sileri eccoci qua, applauso nel senso che ha detto una cosa giusta, però purtroppo Pierpaolo dice una cosa giustissima però gli abbracci va bene, diciamo che dopo un gol non si esulta ma gli abbracci quelli che avvengono in area di rigore o che avvengono a metà campo per marcare l'attaccante da parte dei difensori come li mettiamo? o anche i dribbling, come si chiama quando è un dribbling quello di quando cerchi di prendere la parte? cioè il problema è questo, i contatti fisici per giocare il calcio lo finiamo di stravolgere, già un calcio senza pubblico non è più un calcio un calcio senza gli abbracci dopo il gol è un calcio senza la possibilità come dire di marcare l'attaccante è un'altra roba diciamo dopodiché io citavo grazie! grazie a tutti!